Cosa mai potrai sapere tu, uomo del mio Evo, se leggi e non ascolti chi ti parla dal profondo d'una crepa e dalla natura fredda dell'essenza. Ho toccato il fondo quel giorno, quando scesi nella zona oscura delle mie tenebre, quel giorno in cui lasciai perse le idee e le favelle che io esposi al mondo ancora prima che la notte invadesse la mia insalubre speranza. Cosa mai potrai sapere tu, esemplare che vivi nel frastuono del giorno, se corri e non ti fermi un istante a meditare sulla vita che scorre, così, così come scorrono granelli di sabbia in una rapida clessidra. Cosa mai saprai tu di me che scrivo righe di mestizia innanzi al ricordo mio? Il ricordo del tempo custodito nel mio fragile involucro, quel tempo vissuto nel buio quando respiravo aneliti ansanti nel profondo e irreversibile sonno, esaurito nei meandri di un mondo che forse non esisteva o forse ad esistere. Non ero più io quel giorno. E voi stirpe del mio presente, cosa mai sapete di questo corpo animato che visse e non visse nelle strette crinfie del maligno? Cosa sai tu, mortale, se non conosci che i confini che dividono questa reale sponda dalla più ignota verità? Verità che io tastai quel giorno e poi tornai da te per raccontartela. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.